carissimi amici buona giornata chiediamo che lo splendore della verità del Signore illumini il nostro cuore accogliamo il Vangelo di oggi Matteo capitolo 4 versetti 12 17 23 25 in quel tempo quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato si ritirò nella Galilea lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao sulla riva del mare nel territorio di Zabulon e di Neftali perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Esaia terra di Zabulon e terra di Neftali sulla via del mare oltre il Giordano Galilea delle Genti il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta da allora Gesù cominciò a predicare a dire convertitevi perché il regno dei cieli è vicino Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoge annunciando il Vangelo del regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo la sua fama si diffuse per tutta la Siria e conducevano a lui tutti i malati tormentati da varie malattie e dolori indemoniati epilettici paralitici e degli li guarì grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea dalla Decapoli da Gerusalemme dalla Giudea e da oltre il Giordano la messa di Natale si celebra a mezzanotte o in un'ora tarda quest'anno non abbiamo potuto celebrarla a mezzanotte per via delle restrizioni comunque l'abbiamo celebrata nel buio della sera celebrarla nel buio vuol dire sia ricordare la probabile nascita di Gesù nella sera ma anche una verità profonda rappresentata dalla nascita di Gesù la sua venuta infatti è luce che brilla nell'oscurità dice San Giovanni la luce brilla nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta hanno cercato di soffocarla ma non l'hanno vinta anche la festa che abbiamo celebrato ieri è stata una festa di luce rivestiti di luce Gerusalemme perché viene a te il Signore e la luce la manifestazione di Gesù ha toccato un momento concreto quando si è rivelata ai magi ai lontani e quindi a tutti come re come re che ci libera dal peccato ma anche oggi il Vangelo ci parla di luce San Matteo ci racconta l'inizio dell'attività di Gesù dopo aver ricevuto il battesimo Gesù è rimasto per un tempo nella zona del Giordano ma dopo che Giovanni è stato catturato da Erode ha deciso di non continuare la sua missione nel deserto di non rimanere in luoghi solitari dove la gente per ascoltarlo doveva andare da lui ma lui lui Gesù è andato in mezzo alla gente è ritornato in Galilea cioè nel nord di Israele prima a Nazareth suo paese dove vivevano i suoi parenti ma poi si è spostato in una cittadina sul lago a Cafarnao San Matteo spiega la strategia pastorale di Gesù con una citazione del profeta Gesù è andato in Galilea e lì ha predicato perché si compisse la scrittura che aveva parlato del territorio affidato alla tribù di Dabulon e di Neftali la Galilea appunto chiamata anche via delle genti perché era attraversata dalla grande via l'autostrada del tempo che congiungeva la terra d'Egitto con il paese della Mesopotamia dunque un luogo di passaggio di incontro di popoli e di religioni diverse per questo era anche chiamata Galilea delle genti cioè Galilea abitata da pagani il che voleva dire terra dove la religione è contaminata da tradizioni e credenze pagane la Galilea dunque non era considerata al tempo di Gesù una terra dove la gente aveva una fede sincera una fede vera non era per esempio stimata dalla popolazione religiosa di Gerusalemme un vero profeta avrebbe iniziato la sua attività dalla città santa al contrario Gesù comincia proprio da questa terra dalla Galilea dalla Galilea delle genti e Matteo commenta servendosi delle scritture in questo modo appunto ha compiuto le scritture che annunciavano che un popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce Gesù ha voluto iniziare da una terra immersa nel buio del disordine della confusione religiosa per far brillare la luce del regno di Dio che stava per accendere con la sua persona con il suo arrivo le tenebre si diradavano la sua persona la persona di Gesù il suo messaggio erano più forti del buio del peccato dell'ingiustizia erano più forti della malattia per questo grandi folle accorrevano da lui da tutte le parti del paese anche da Gerusalemme Gesù ha la pretesa di essere il più forte del male che ha la pretesa di essere persona che porta luce nella vita guarigione nella sofferenza per questo ha cominciato dove il buio è più fitto e agli apostoli ha detto voi siete luce del mondo e non dovete mettere la luce sotto un secchio ma sul candelabro perché faccia luce a tutta la casa il signore illumini gli occhi del nostro cuore ci aiuti a credere nella potenza di luce provocata dalla parola dalla presenza della persona di Gesù siamo nel buio il prolungarsi della pandemia ci sta togliendo le forze ma anche l'abbandono di tanti dalla messa dalla preghiera cristiana dal legame con la chiesa provoche in noi smarrimento buio abbiamo paura di perdere la speranza la fiducia nella verità del Vangelo anche la nostra vita personale attraversata da buio delusioni paure fragilità qualche volta abbiamo l'impressione che il male sia più forte del bene oggi il Vangelo ci dice che Gesù per iniziare la sua attività ha scelto di andare ad abitare proprio nel paese dove le tenebre erano più forti dove maggiore era la lontananza da Dio dalle sue leggi e dalla sua parola e lo ha fatto perché il regno di Dio è vicino e nella sua persona è presente la potenza stessa di Dio che vuole regnare su di noi che vuole liberarci dal peccato ridarci speranza illuminando il nostro destino con la speranza dell'eternità ricuperiamo quindi oggi speranza anche la fiducia cerchiamo di non muscolare la luce di Gesù con il buio ma lasciamo che la luce di Gesù brilli e quindi anche non soffochiamo i nostri desideri di beni e di felicità con Gesù non abbiamo paura del buio